Buongiorno, benvenuti, questa è la Sestegna Stampa di oggi 25 giugno, grazie a tanti che ci hanno visto ieri sera a Quarta Repubblica. Allora, subito i temi della giornata, ovviamente l'abbiamo già visto ieri sera, l'avete letto ovviamente sui giornali, sui siti internet, la Vittoria dell'Italia, con un buon distacco rispetto alla Svezia per le assegnazioni delle Olimpiadi del 2026. Buongiorno a Gerardo, che vedo che si collega per primo qua sulla zuppa di porro. Allora, cosa vuol dire questo intanto in termini economici e poi andremo a vedere in quelli politici? Il Sole 24 Ore sostiene che questa roba qua valga 4,5 miliardi di euro di PIL, sostanzialmente tanto a Hug Giorgio, e 36 mila posti di lavoro, queste Olimpiadi invernali che si tratteranno tra Milano e Cortina. Milano ha le cose che riguardano il ghiaccio e Cortina ovviamente lo sci. Il costo di questa manifestazione sarà pari a 1,3 miliardi e la cosa straordinaria è che di questi 1,3 miliardi, 900 milioni, secondo quello che dice il Sole 24 Ore, saranno finanziati dal Comitato Olimpico. Quindi 400 milioni l'Italia e praticamente un miliardo invece da parte dei fondi del Comitato Olimpico. Io dico con questi numeri pensare di non fare un'Olimpiade e come dice bene oggi Sallusti, evitare di vivere perché c'è il rischio che uno possa avere una malattia. Perché Sallusti oggi sul fondo prende in giro anticipatamente il titolo del Fatto Quotidiano, che è il titolo ridicolo, ho cercato di scriverlo sul mio sito nicolaporro.it. Ci sono due modalità nell'affrontare la vita, la modalità dei grillini e la modalità delle persone normali, dotate di cervello normale. Quella dei grillini è tipica del loro giornale, cioè del giornale pubblico dei grillini, cioè il Fatto Quotidiano. Milano e Cortina vincono, e questo è fattuale il titolo del Fatto, ma perde l'Italia, sprechi e poi l'esempio dell'Expo 2015 con le retate. Insomma, il clima del Fatto Quotidiano, che è una grande abbuffata e che diventerà come l'Expo 2015. Bisognerebbe spiegare ai ragazzi del Fatto Quotidiano che l'Expo 2015 è quello che ha dato una vita completamente diversa a Milano e un lustro completamente diverso a Milano rispetto a quello che era precedentemente, così come hanno fatto i grattacieli di Albertini, così come hanno fatto le torri di City Life, così come hanno fatto ovviamente anche Expo, gestita proprio da commissario Sala, voluta dalla Moratti, che ha girato tutto il mondo per vincere questo Expo, che sembrava una cagata, ma in realtà ha ristabilito Milano come centro dell'Europa. Ma questo non bisogna spiegarlo a quello del Fatto, perché vorrebbero vivere di spazzacorrotti, e lo capisco bene dal loro punto di vista. Ridicola, seconda questione, non voglio fare il dietrologo, però ridicola la posizione di Raggi, che è una donna ridicola in sé, e Appendino, che non mi sembra una donna ridicola rispetto della Raggi, mi sembra una donna molto più ragionevole, ma insomma l'Appendino, una volta che la sua maggioranza non gli ha permesso di tenere Torino all'interno di questa battaglia per le Olimpiadi, perché devono esserci Torino, Milano e Cortina, all'interno di questo gran casino almeno stai zitta, state zitti grillini, cretini che non siete altro, che a Roma non riuscite a fare uno stadio, che a Roma avete evitato di fare le Olimpiadi, che avete evitato di portare Torino. Allora, se voi siete dell'idea che queste robe portano corruzione, se voi siete dell'idea del fatto quotidiano, se voi siete dell'idea che l'Expo fa schifo, se siete dell'idea che quando arrivano dei soldi pubblici dalla CIO per voi è un disastro, perché la gente ruberà, perché vivere porta alle malattie, quando vinciamo le Olimpiadi a Milano e a Cortina dovreste essere disperati, non dovreste fare i complimenti a questo governo, perché questa è una vittoria di Giorgetti, che oggi viene intervistato da Corriere della Sera, è una vittoria solo di Giorgetti, l'unico ministro leghista che voleva che questa cosa si facesse. È una vittoria di Giorgetti, del sindaco di Milano Sala, del sindaco di Cortina, e di Zaia e di Fontana, cioè tutti tranne i grillini, per i quali questo paese dovrebbe fare una decrescita infelice. Chiaro? Questo è il punto. Quello oggi è l'unica questione. Ce l'ho quei grillini? Sì. Perché i grillini oggi sono quelli che non solo non vogliono che ci sia la crescita delle Olimpiadi, non penso che questa sia ormai più l'idea di Di Maio, che è stato più moderato di tutti, ma la base dei grillini è questa merda qua. Il punto sostanziale sono quelle piccole norme che ci uccidono e che voi neanche ve ne accorgete. Io vi invito oggi a leggere, se ce la fate, il pezzo di Paolo Bricco, sul Sole 24 Ore. Anche Belpietro ne parla della questione ILVA. Voi pensate che l'ILVA l'hanno comprata gli indiani? Non è vero. Arcelor Mittal non ha ancora comprato l'ILVA. L'ILVA è affittata, mi sembra un milione di euro al mese o qualcosa di questo tipo. Sapete perché è affittata? Perché l'ILVA ancora, per colpa di questa genialata dei nostri magistrati, amici dei grillini, tarantini, è ancora sotto sequestro. E quindi uno non compra una roba sotto sequestro. E per di più, se compra una cosa sotto sequestro, come è riuscita a comprare grazie al contratto, gli indiani l'hanno comprata, mi hanno detto sì, noi compriamo una cosa sotto sequestro, ma conoscendo la genialità, la simpatia, la trasparenza, l'equità dei magistrati delle norme italiane, noi compriamo una cosa sotto sequestro. Prima di tutto la compriamo nel 2021. La compriamo e la teniamo in affitto, la gestiamo, però attenzione, non vogliamo andare in galera per reati commessi precedentemente a quando l'abbiamo comprata. Quindi vogliamo uno scudo penale. Giustamente tutto questo è scritto nel pezzo di bricco. Cosa fanno questi geni della maggioranza del Movimento 5 Stelle? Mettono una piccola norma nel decreto crescita, che si chiama decreto decrescita, per la quale viene tolto lo scudo penale ai dirigenti dell'ILVA, che devono gestire degli impianti sequestrati, devono avere a che fare con i magistrati di Taranto, che hanno ucciso la famiglia Riva, senza che nessuno di loro sia stato ancora condannato. Condannato, dicono noi non gestiamo questa roba qua con l'idea che andiamo tutti quanti in galera, modello Moretti, non la gestiamo per niente, zero, ce ne andiamo. E sapete cosa vuol dire? Questo lo spiega bene Belpietro. Cosa vuol dire se l'ILVA se ne va dall'Italia? Vuol dire 1% del PIL, 10.000 famiglie che non lavorano, e vuol dire soprattutto, come ricorda Bricco sulla stampa, bagnoli, cioè il nulla assoluto. Prima si chiude, poi si fanno i progetti, riconversione, verde, tutte stronzate, tutte stronzate di gente che è solo capace ad andare ai rave alla Sapienza. D'altronde, la questione del rave della Sapienza e della sua ridicola gestione, cioè un posto in cui si dovrebbero formare gli studenti che si occupa la notte soltanto di fare i rave a pagamento, beh, insomma, allora voi capite come noi formiamo la classe dirigente. A quella classe dirigente che va ai rave alla Sapienza devi spiegare che l'ILVA serve, perché all'acciaio serve. O secondo voi, a quelli che escono dai rave della Sapienza, invece gli puoi dire, mentre si impasticcano e si fanno un po' di metanfetamina, gli puoi dire, sai che c'è? In realtà possiamo fare una cosa verde a Taranto. Pieni di metanfetamine pensano che sia meglio fare delle cose verdi, certo non fare l'inquinante mostro ILVA. Chiaro il concetto? Questo è il concetto. Poi leggi Fabrizio Roncone oggi sul Corriere della Sera che racconta, come fa Roncone, che pensa di essere il fenomeno, racconta qual è la storia di questa morte, di questo giovane ragazzo. Lui davvero innocente, secondo me, per andare un laureato alla LUIS che ha provato ad andare a questa festa. Chi va alla festa è di fatto innocente, il problema è chi le organizza queste feste, che sono colpevoli. Allora Roncone per cosa se la prende su questi ragazzi? Sapete su cosa se la prende? Non che si organizza all'università un rave, non che questi sono dei marci comunisti che vivono negli anni Sessanta, no, dice, beh, ma insomma non ha nulla a che fare con gli indiani metropolitani, con la gente di 50 anni fa che faceva queste feste bellissime in cui in realtà non c'era niente di business. Cioè, non è una critica reva alla sapienza, non è una critica al rettore che è fatto di gomma, non è una critica al fatto che queste cose si devono solo stroncare. All'università si studia, se vuoi non studiare ti prendi un posto dove andare a fare i rave, va bene? Che sono cosa buona e giusta. Se volete sfondarvi, sfondatevi, non me ne frega niente, ma non all'interno della sapienza, quello è un luogo pubblico, lo pago anch'io, l'ho pagato anch'io. Bene, insomma, sapete quindi qual è il problema di Roncone? E che si fanno pagare 3 euro la consumazione. Cioè, il punto fondamentale non è l'occupazione della sapienza, non è il principio dei rave, ma che loro si fanno pagare 3 euro. Anche se non si facessero pagare, quella roba lì non si fa all'interno di una università che ben conosco e che ho frequentato per anni, come probabilmente ha fatto Roncone, ma dall'altra parte. Cioè, organizzando con gli indiani metropolitani il suo divertimento. Di Maio, riguardo alla politica, dice una cosa sola in un'intervista al Corriere della Sera, no alla crisi, perché se dovesse arrivare una crisi l'unica cosa che succede è l'arrivo dei tecnici, e almeno questo è il suo punto di vista di oggi, il reddito di cittadinanza, come tutti pensavamo, è nel caos, è pura assistenza. Il quotidiano nazionale ci spiega che da ieri sarebbero dovuti iniziare i piani di ricerca del lavoro per 120.000, mi sembra di 500-600.000 poveri che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza. Questi 120.000 non hanno nessun piano di lavoro, non c'è nessuna informatica, non c'è nessun sistema, non riescono a trovare il modo per trovare lavoro a queste 120.000 paesi. Ma neanche c'è il sistema comito per metterli in contatto con i centri per l'impiego, con l'Ampal, è tutto in alto mare. Speriamo che nel futuro migliori, ma il senso di questa vicenda, come sintetizza bene oggi il quotidiano nazionale, che meno male che non dovevano essere sul divano quelli che ottenevano il reddito di cittadinanza, 120.000 stanno lì sul divano a non fare nulla. Navigators, come dice Silvia, non ci sono, non c'è alcuna bussola, e compagnia cantante. Ultima annotazione dai giornali inglesi, quanto è costato l'appartamento di Harry e Meghan, 2,4 milioni, e pagare è la regina, che ha un appannaggio di 83 milioni di sterline, ne spende metà per Buckingham Palace, e mo' c'è sto casino dei nipoti che vogliono cambiare casa, e soltanto la ristrutturazione gli costa un bel 2 milioni e mezzo. Insomma, gli inglesi, di fatto, sulle questioni reali, ci vanno a nozze, come si suol dire, perché in effetti sono veramente divertenti, e ci raccontano i bagni che ci sono, i non bagni, i Meghan che vuole, insomma, beati loro che hanno questa bella favola da raccontare, che può piacere, indignare, far arrabbiare, e che forse è meglio di Mark, o come si chiama, Caltagirone, ma insomma, lì siamo. Bene, vi do appuntamento, come sempre, con la zuppa di domani, e ovviamente col sito nicolaporro.it e tante notizie anche oggi sull'attualità e ovviamente sui nostri approfondimenti. Ciao!